bella per voi papam ragazzotti faccio questo breve video per chiedervi due cosette sulla tech and beacraft guardate che belli i fulmini allora in primis la buona new bozza mi ha fatto venire in mente una cosa mi ha detto tanto tempo fa quando tu avevi 1000 iscritti facevi tutorial su richiesta ora non sto dicendo di fare tutorial su richiesta sennò mi bombardate di cose però si potrebbe creare un hashtag da mettere nella tech and beacraft in cui chiedete un approfondimento di qualcosa potrebbe essere come qual è il cavo migliore da usare per portare elettricità come funziona quella cosa lì che ho fatto vedere in quella punta da là e così via quindi se volete avere degli approfondimenti su le mod o su un oggetto di una mod di questa serie lasciate nei commenti di questo o dei video che seguiranno l'hashtag non ci ho capito un cazzo e poi la domanda inerente mi raccomando scrivete l'oggetto oppure se non sapete proprio il nome dell'oggetto lasciate una breve descrizione del di che cacchio è così posso capire che cacchio state intendendo l'altra cosa ragazzotti belli è che in questo mod pack oltre a tante mod tecniche ci sono anche le le mod diciamo magiche c'è la oltre la più conosciuta towncraft 4 e la guarda che bello e la arts magica 3 scusate 2 c'è anche la blood magic sacrifice of qualcosa e la witchering quindi ragazzotti se vi lascio un sondaggio in descrizione e nei commenti se avete voglia di vedere oltre a api e magia avete voglia di vedere scusate api e tecnologia perdonatemi avete voglia anche di vedere magia fatemelo sapere perché io mi ero acchittato questa stanzotta qui dov'è 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 qua sotto e dove sei questa stanzotta qui oh ciao pipi ciao pipi ciao pipi in cui effettivamente volevo fare la towncraft 3 e la e l'arts magica nel caso farò anche le altre mod non sono mod che mi appassionano perché non hanno poi tanti risvolti che diciamo che si concatenano alle altre mod del pack però sono sono effettivamente fighe e voglio sapere da voi se volete vederle in questa serie oppure no quindi ricordatevi che se non volete vederle in questa serie dovete comunque scrivere rispondere no altrimenti si vincono e voi attaccate allo zufolotto perdete la vostra votazio quindi questo questo è quanto l'hashtag non ci ho capito un cazzo e il la spiegazione di quello che volete oppure 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 e andate a votare per avere le mod magiche in questa serie che tratteremo ogni tanto come al solito io ho spazio da di qua e di là questa è la mia ultima struttura e vi spoiler è bellissima è bellissima qui ci sono i nostri liquidi aposi industriali apiari figo bella per voi ragazzotti ci vediamo lunedì con il prossimo video della tech and be bella ah non mi andavo di fare lo spotlight oggi quindi non l'ho fatto ciao ciao